Giuventus, merda! 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 gol numero 21 Zlatan Ibrahimović gol numero 24 Simono e gol numero 79 Zlatan eh si svegliati gol numero 1 Asmi Vainović gol numero 20 Antonio gol numero 21 con il numero 5 Jack Buonaventura con il numero 17 Raffaele con il numero 22 Matteo Oseggio con il numero 39 Lucas Marchetta con il numero 46 Matteo Gabbia con il numero 56 Alexis Sanvec con il numero 93 Diego Max con il numero 94 Marco Brescianini con il numero 98 Daniel Mazzini e l'entore Stefano Viva Viva E' una grande parola al campo semi-finale d'andata di Coppa Italia inizia la partita del Viva!